Buonasera a tutti, noi siamo i giovanissimi regionali anno 14 del calcio Padova, siamo terzi in classifica, sta andando abbastanza bene, però abbiamo troppa gente della squadra infortunata e speriamo che recuperino presto gli infortuni. Con l'Inter, vinto 2-0, portato a casa, abbiamo zittito Gigi, ci diceva che avremmo perso, che non avremmo fatto una bella partita invece abbiamo vinto. Io che ho segnato, gli ho praticamente dedicato il gol perché lui mi dice che sono sempre un c***o e basta. Sono molto contento della partita, volevo salutare soprattutto Ale e Iachi che hanno subito due gravi infortuni. Vabbè, praticamente lui ha fatto un autogol dal centrocampo contro la Liventina facendo un retropassaggio. No, non me l'aspettavo, può succedere, però dopo abbiamo vinto e siamo stati contenti. Primo tempo, sarà stato il 26esimo, punizione da 40 metri, Daniele Grosu contro il Venezia, parte e si pensava la tirasse a campi. Il vento l'ha deviata, c'era un vento pacesco, l'ha deviata, l'ha messa sotto il 7. Come ha detto Stefano, eravamo al 26esimo, stavamo pareggiando 0-0 e mi sono preso la responsabilità. la vita, quindi ho tirato e ho segnato. Ho dedicato il gol alla mia famiglia, cioè a mia sorella che tipo a marzo starà per nascere. Tanti auguri e forza Padova!